Ciac si gira a Torre del Greco. Sono in corso in queste ore le riprese della serie televisiva Sara che andrà in onda prossimamente su Netflix. Location scelte dalla produzione cinematografica, il complesso degli ex molini meridionali Marzoli a Becalastro è quella del Porto. In particolare, tra le ambientazioni scelte, la casa del pescatore sul molo di Ponente. Qui è stato allestito un bar dove si svolgono alcune scene della fiction. Tra gli interpreti che fanno parte del cast c'è la nota attrice Claudia Gerini. La serie è tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni. Non sono mancati i curiosi e i fan in cerca di selfie e autografi.